Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi giocheremo a Clash of the Rock Non ci gioco da un botto di tempo neanch'io Quindi non so giocare Quasi Però se non mi trovi Quindi non sarà un problema Mi stacciono il progetto Se sarà da due C'è un vialito Non è che c'è Un vialito Un vialito Grazie Un vialito Un vialito Un vialito Ciao Ok abbiamo anche la cassa di Giano 13 Giano 1 e 15 Giano 39 Giano Qua c'ha il municipio a livello 9 però non c'è il Re Barbaro no, allora che schifo veramente mi sono più accorto io non sarò più scariore e dovrò scontare un tantissimo po' ok ingeliamo ecco ora 4 per 1 attiviamo l'abilità del Re Barbaro nel Posi Morto però ma non si chiama no, 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 no le mongolfiere no, per questo ci guardiamo certo, non ci abbiamo neanche perso il costo in te non si però non lo sarò più rispettato vabbè addio non speravo così yey anche se non c'entra niente va bene anche se mi serve affatto non sono morti tutti no, perché sta sto dicendo che non sono morti di più adesso però no sbagliato non mi sono morti tutti mi sa mi serviva il draghetto là sarebbe stato molto utile veramente comunque risentito la caserma a livello 9 10 vabbè un valore più alto dell'8 della caserma mettete almeno due draghi a livello 2 se non c'avete due draghi almeno a livello 2 beh potreste anche mettere quattro draghi non so che consigliarvi qualche stregone qualcosina in più perché quattro draghi a me già che quattro pecca potrei metterne cinque quindi non so che consigliarvi vabbè tutto quello che volete voi vabbè mi è morto il coso per una bomba vabbè 74% fa bene per me fa del bene perché così noi non abbiamo più risorse sembrava un tipo di bug però sta cosa della bomba a ricerca sì quella mortale per come si chiama la tesla migliorata mi sembrava quella migliorata al 7 10 8 ah c'è 10 messaggi in arrivo no vabbè il gruppo di whatsapp chi mi vorrebbe nel gruppo di whatsapp what's up what's up what's up what's up what's up what's up ok qua ho finito di mettere tutto quindi posso anche farmi il municipio a livello 10 però devo aspettare 5 milioni wow che bello mi sa che concluderò fra poco tra guerra e tra clan ci sono io il gladiatore oh no è vero mia nico si chiama il gladiatore che cosa c'è che devo piazzare modifica il dispositivo ah soltanto questo ok qua non mi posso entrare vero controllo dall'attacco dipende se possono entrare faccio qualche modifica perché non voglio che mi entrano dentro no l'ho messo fuori quindi si questo qua anche se mi ha distrutto vabbè senza tutto cioè lui ha messo 28 giganti al 5 cioè io ce l'ho al 4 3 mi sembra 4 3 si 3 si però i giganti sono delle belve al 5 ok tutti i giganti li ha distrutto quindi per me va bene non ho non ho usato l'abilità 89% non mi sa si 89 88 volevo dire lui ha guadagnato 15 e gli ha perso 15 5 vabbè scusate se questo viene durato però già vabbè Grazie a tutti